Emettere bot di guerra per finanziare l'attuale situazione di crisi da pandemia. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi affrontiamo un argomento di politica economica e di obbligazioni, quindi di investimenti relativi alle obbligazioni ai titoli di Stato e valutiamo se questa proposta fatta da Salvini è una proposta fattibile, quindi realizzabile concretamente, quindi quali tipi di vantaggi potrebbe portare in questo momento la realizzazione dei cosiddetti bot di guerra, quali sono i pro, quali sono i contro e poi cercheremo di capire alla fine del video se si tratta della solita proposta politica per fare, diciamo, televisione, per fare audience, quella a cui i politici ci hanno più volte abituato, oppure è una vera proposta realizzabile che potrebbe portare vantaggi in questo momento particolare della situazione italiana. Sempre Marocaimi qui con voi e prima di andare nel vivo vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollicione in su e nei commenti sviscerate quello che pensate, quali sono anche i vostri dubbi sull'argomento, magari faremo anche un video di approfondimento sul tema, fatemi sapere tutto quello che pensate. Bene, dritti al cuore del tema, i bot emessi per finanziare questa attuale situazione di crisi si possono fare? Sì o no? Assolutamente sì, in maniera molto semplice ragazzi. Il tesoro può emettere titoli di Stato, può emettere nuovi bot, in questo caso come proposto da Salvini, e può immetterli sul mercato indirizzandoli ai retail, quindi agli investitori retail italiani, in maniera tale da proporgli appunto questo nuovo debito, questo nuovo strumento finanziario che potrebbe essere poi acquistato dagli italiani. Fin qui tutto filaliscio ragazzi, quindi intanto l'emissione è possibile, non ci sono particolari vincoli, non ci sono particolari problematiche da questo punto di vista. Andiamo a capire quali sarebbero i pro di questa emissione di nuovo debito. I pro sono molto semplici e anche abbastanza banali, semplicemente ci svincoliamo da tutto quello che è il dibattito europeo relativo alla messe sì, messe no, oppure eurobondo, eurobondo no, insomma ragazzi non ce ne frega più nulla di quello che dice l'Europa e che non devono fare, cosa devono dire i loro consigli che si rimandano di giorno in giorno, facciamo da soli. Prendiamo il risparmio italiano ragazzi che è tantissimo, se non sbaglio ragazzi, non ho controllato recentemente, però dovrebbe essere intorno ai 1.400 miliardi e andremo a usare questi soldi per rimessa in moto della macchina produttiva del pillo italiano. Detto così ragazzi sembra tutto rosa e fiori, ma non è assolutamente così, perché ci sono una serie di contro che vanno valutati. Intanto dobbiamo chiarire un discorso, titoli di stato ragazzi non sono acquistabili solo quando avviene l'emissione, ma sono acquistabili tutti i giorni della vostra vita. Un investitore può comprare tranquillamente un bot anche in questo momento. Se un investitore italiano volesse finanziare l'Italia in questo momento potrebbe semplicemente accedere al suo conto corrente, preme il bottone, acquista il bot. Quindi ragazzi, se gli italiani volessero prendere i loro risparmi e comprare i titoli di stato, intanto lo avrebbero già fatto. Questo è il primo contro abbastanza evidente, cioè non c'è bisogno di una nuova emissione per comprare titoli di debito italiano. Se gli italiani non hanno acquistato in questo momento altri titoli di stato, significa in sostanza che non vogliono comprare questo strumento finanziario, almeno in questo momento o perché magari ne hanno già in portafoglio. Da qui avviene la famosa frase del leader della Lega con una certa convenienza economica, emissione di un bot che sia economicamente conveniente. Anche se ci fosse un'emissione cosiddetta conveniente, adesso andremo a vedere i numeri ragazzi, dovrebbe essere chiesto agli italiani di comprare questa nuova emissione, quindi un favore in sostanza. Nella stragrande maggioranza dei casi sarebbero messi questi titoli e venduti, tra virgolette, attraverso i canali classici della posta e delle banche, attraverso le vendite allo sportello, la famosa vecchietta pensionata. Ma per farlo ragazzi c'è questo famoso idea della convenienza economica. Allora analizziamo i dati, adesso vi mostro anche qualche numero. Attualmente un bot a scadenza 12 mesi, ipotizzo quello che ha il rendimento più elevato di tutti, lo sapete quant'è? Tenetevi forte perché vi sto per dire la convenienza economica, è 0.26%. Lordo, neanche con le tasse, neanche netto. Applichiamo la tassa a questo tipo di rendimento e otteniamo lo 0.2275% di rendimento netto. Va bene, allora un bot a 12 mesi rende al risparmiatore italiano lo 0.2275%. Questa convenienza economica dovremmo farla attraverso un rendimento maggiore. Se diamo un rendimento maggiore agli italiani ragazzi, per questioni di arbitraggio, significa alzare i rendimenti anche dei tutti i titoli già presenti. Questa cosa non si può fare perché il rendimento non lo decide l'emittente del debito, ma lo decide il mercato con l'equilibrio tra domande e offerte. Non possiamo in nessun modo andare a dire vi diamo il 2%, anche volendolo fare sarebbe un disastro ragazzi, perché significherebbe alzare il tasso di interesse di tutto il debito italiano, facendoci pagare miliardi e miliardi in più di quelli che già paghiamo con gli interessi. Quindi sarebbe un disastro economico completamente. L'unica variabile da toccare resta la tassazione ragazzi. Quella è fattibile, in effetti lo Stato potrebbe dire questa emissione è a tasso 0, quindi senza tasse. Io ti do l'intero rendimento di mercato e non ti applico le tasse. Calcoliamo le tasse sul rendimento di un bot a 12 mesi, scadenza aprile 2021. Sapete a quanto ammontano ragazzi? Allo 0.0 32,5%. Quindi in pratica, in pratica ragazzi, vi faccio un numero. Se anche il vantaggio economico della tassazione con tasse 0 su queste emissioni venisse applicato, il vantaggio per un consumatore che compra questo titolo di Stato con 10.000 euro in un anno avrebbe una plusvalenza di 3,25€. Ragazzi, vi comprate due caffè e vi resta anche lo sconto per un pacco di Vigors. 3€ in un anno, questo vantaggio economico. Chiaramente capite bene che non ha nessun tipo di valore, quindi questa famosa convenienza economica di bot convenienti per gli italiani è tutta una grande fandonia. Un concetto che poi nella realtà dei fatti avete visto, toccandolo con mano, essere veramente senza senso e completamente inutile. Ultimo contro di questa proposta, con l'emissione di nuovo debito, l'Italia andrebbe ad aumentare il proprio debito pubblico. Ed è questo proprio il problema, ragazzi, che si vuole evitare con il discorso degli euro bond. Perché l'Italia, ragazzi, può semplicemente mettere nuovo debito, come ha sempre fatto. Non ha bisogno di venderlo agli italiani con questo classico messaggio pubblicitario. Può fare domattina, l'emette lo stesso, e chi se lo compra, se lo compra. Se lo comprono gli italiani oppure qualcuno all'estero, non cambia niente, visto i rendimenti che diamo, ragazzi, sono già bassissimi. Ma il problema è che aumenterebbe il debito italiano. Aumentando il debito italiano, ragazzi, noi diventiamo un paese estremamente a rischio. Questo farebbe aumentare lo spread e portarci alla spirale del debito che rischia fortemente, in una situazione di stagnazione economica, con un PIL che fa meno 20, forse, quest'anno, rischia fortemente di farci fallire e di farci andare in default. Quello che non si vuole con l'attuale politica è proprio aumentare il debito pubblico. Ecco perché la richiesta dell'euro bond e lo affronteremo in un altro video. Quale conclusione possiamo dare a questa proposta sbandierata in tv della lega, ragazzi, l'avete visto, toccandolo con mano, non è politica, non è un video di politica, ragazzi. Se la cosa fosse stata sensata, sarebbe ovviamente stata oggetto anche di analisi di un certo tipo. Questa proposta è la solita fuffa totale, non serve a niente, l'avete visto, è toccato con mano, serve solo a fare di nuovo grandi paroloni, grandi titoli, trasmissioni televisive, immaginari. Un classico messaggio pubblicitario in un momento particolare dove evidentemente la politica italiana magari non sa cosa dire in questo momento e si inventa queste cose. Bene, allora, fatemi sapere però anche voi cosa ne pensate. se mi è sfuggito qualcosa, ragazzi, scrivetemelo nei commenti perché nessuno è perfetto, ve lo vorrei ricordare. In un prossimo video guarderemo anche cosa sono gli eurobond e perché si sta insistendo tanto su questi eurobond perché proprio questo tipo di strumento potrebbe risolvere una di queste criticità di cui abbiamo parlato in questo video. Per oggi è tutto, ragazzi. Io come sempre vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!